Ciao a tutti carissimi amici! Sono felice di presentarvi oggi una torta al miele, che abbiamo provato da poco mentre facevamo una vacanza in Croazia. È la famosa torta marlenca, che ha origine armeni, ma che è stata popolarizzata in Europa da una famiglia armena emigrata nella Repubblica Ceca. Teniamo a comunicarvi che questo video non è una pubblicità. Noi abbiamo acquistato due confezioni con diverse interpretazioni della stessa torta, una al cioccolato e l'altra alle noci. In questo video proveremo a replicare la classica torta marlenca al caramello e noci. Questa è la torta e adesso proviamo a fare il taglio per vedere la sua struttura interna. Possiamo notare che la torta è molto soffice e morbida. Si sente molto forte l'aroma di caramello, miele e noci. Iniziamo la preparazione della torta. Prepariamo la crema pasticcera. Come prima cosa, metto in ammolo i fogli di gelatina in acqua fredda. L'elenco completo degli ingredienti e le dosi le troverete indicate nella descrizione sotto il video. In un pentolino metto a scaldare il latte e la panna fresca. Per aromatizzare la crema, apro un baccello di vaniglia e con un coltellino tolgo i semini dall'interno e le aggiungo nel pentolino. Nei tuorli d'uovo metto un pizzico di sale, e inizio a mescolare per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Aggiungo un po' di latte freddo, che ho messo da parte dalla quantità totale, per diluire il composto. Quando il latte è arrivato quasi all'ebollizione, lo comincio a versare nel composto di tuorli. Verso gradualmente circa metà del latte per bilanciare le temperature dei composti. A questo punto posso trasferire il tutto nel pentolino e rimetto sul fuoco per cucinare la crema. Tengo a fuoco medio-basso per circa 12-15 minuti e mescolo in continuazione per non far attaccare la crema al fondo del pentolino. Ogni tanto alzo il pentolino dal fuoco per non aumentare troppo la temperatura. In questo modo evito di bruciare la crema e di formare i grumi. Per le creme è molto importante utilizzare un pentolino con fondo spesso. Quando la crema si è densata, la passo attraverso un collino e la trasferisco nella ciotola nella quale in precedenza ho preparato un pezzettino di burro freddo. Aggiungo la gelatina ben strizzata e mescolo bene. Questo procedimento ci aiuterà a raffreddare di qualche grado la crema, le darà lucentezza e la manterrà vellutata. Copro la crema con la pellicola a contatto e la lascio arrivare a temperatura ambiente. Metto a tostare le noci e le lascio raffreddare. Il passo successivo è la preparazione dell'impasto per le sfoglie. In un pentolino metto a sciogliere il burro ed il miele. Il composto ottenuto lo trasferisco in una ciotola. Nella farina setacciata aggiungo il lievito per i dolci ed il bicarbonato. Mescolo per amalgamare. Toglio i semini di un baccello di vaniglia e li aggiungo nella panna acida. In una ciotola capiente metto le uova, un pizzico di sale, lo zucchero e la panna con la vaniglia preparata in precedenza. Mescolando, verso il burro ed il miele, l'aceto di mele e comincio ad incorporare gradualmente la farina. Questo tipo di impasto non si deve mescolare troppo. Dobbiamo ottenere un prodotto finale friabile. Abbiamo ottenuto un impasto morbido ma non appiccicoso. Io preferisco non aggiungere più la farina, ma se per voi è difficile lavorare un impasto così morbido, potete aggiungere un altro po'. Sulla spianatoia cospargo un po' di farina e trasferisco l'impasto. aiutandomi con una paletta creo un cilindro e divido l'impasto in cinque pezzi uguali. li metto su un tagliere infarinato e li copro con la pellicola. su un pezzo di carta forno spolverizzo la farina, appoggio una pallina d'impasto alla volta, la schiaccio un po' con le mani e inizio a stenderla con il mattarello. Creo una sfoglia di forma quadrata con il lato di 25 cm e uno spessore di circa 3-4 mm. uso il fondo della teglia per ricavare la sfoglia. I pezzetti di impasto rimanenti verranno utilizzati per creare la sesta sfoglia. Prima di infornare la sfoglia, e abbocchieremo la superficie con la forchetta per non ottenere rigonfiamenti durante la cottura. Metto nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 6-7 minuti. Regolatevi in base al vostro forno. Una volta tolti dal forno lasciate raffreddare sul piano di lavoro. Ripetete la procedura con tutti i pezzetti di impasto per ottenere 6 sfoglie. Dopo il taglio della sesta sfoglia mettete in forno anche le strisci di impasto rimanenti, che verranno utilizzate per decorare. E queste sono le nostre sfoglie pronte. Sminuzzo le noci tostate in precedenza. In una ciotola monto a neve quasi ferma la panna che deve essere molto fredda. In un'altra ciotola sbatto il burro morbido a temperatura ambiente per 3-4 minuti, finché diventerà bianco e soffice. Aggiungo in 2-3 presi il latte condensato caramellato, anche questo a temperatura ambiente. Ammorbidisco con il frullatore la crema pasticcera e la aggiungo gradualmente nel burro e latte condensato. Come ultima cosa, incorporo la panna montata nella crema di burro. Uso la frusta a mano senza montare troppo. E la crema è pronta. Per la bagna ho utilizzato l'acqua bollita e raffreddata, zuccherata con lo zucchero di canna integrale. Tutti i componenti sono pronti e possiamo assemblare la torta. Ho messo una striscia di carta forno sul fondo della tortiera per facilitare le estrazioni della torta pronta. Appoggio la prima sfoglia e la bagno con lo sciroppo aiutandomi con un pennello. Per non far fuori uscire la crema attraverso le fessure, ho utilizzato delle briciole ricavate dai pezzetti di biscotto rimasti dall'ultima sfoglia. Ricopro con la crema il primo strato. La quantità di crema la devo dividere in modo da ottenere 6 strati uguali. Cospargo di sopra delle noci. Appoggio un'altra sfoglia e continuo in questo modo fino all'esaurimento delle sfoglie. Dopo il secondo strato metto le strisce di accettato sui bordi per facilitare le estrazioni della torta. Appoggio un'altra sfoglia e continuo in questo modo. L'ultimo strato lo cospargo in abbondanza con noci e con biscotti frantumati rimasti. Copro la torta con la pellicola e la lascio raffreddare e rassodare in frigorifero per tutta la notte. Dopo circa 10 ore la torta si può estrarre dal frigo e possiamo iniziare il decoro finale. Come tradizione questa torta si decora con delle strisce di glass al cioccolato. La torta marlenca è pronta. Credo che la nostra prova ha avuto successo perché la torta è venuta molto buona, anche più buona dell'originale. Provate a replicarla anche voi per un'occasione speciale. avrà molto molto successo. E noi aspettiamo i vostri commenti e i vostri preziosi mi piace. Ciao e alla prossima videoricetta. Se vi è piaciuto il nostro video condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime videoricette. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.